Sì, è più ricamata con un bacco per me dalla patina alle ore in pala è è sempre calde due noti e un metallico ma avere più quindi usb MAI mettendo quindi faccipro non dobbiamo pattenare ma così come una manuazione in parte non ci adesso non vedi perché il patinato con te e magari lo posso operare per tono un po' di oggi ma la mia ricominazione è una ragazza Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.